Un saluto dal Presidente Massimo Moratti a tutti i spettatori e tutti gli amici di InterTV.it e soprattutto del canale YouTube InterTV Official. Ecco, è importante, ve lo dico subito, che vi iscriviate, che commentate, che mettete mi piace ai vari video. Non ci sono solo, diciamo, quelli di Diego Di Gorion, ma ci sono anche tanti bei video, perché la nostra è una web tv, insomma, una grande web tv dove potete rivedere qualsiasi puntata. Detto questo, analizzando un attimino il derby, scusate il capello un po' lungo, ma diciamo, devo andare al parrucchiere, devo andare, insomma, va che bel filetto. Detto questo, analizzando il derby, vi posso dire che, insomma, il risultato, come al solito, bugiardissimo. Questa volta veramente bugiardo, con la Juve ho scherzato, però, insomma, il Milan l'ha buttata dentro. Insomma, non mi ha fatto piacere vedere certa gente in tribuna d'onore, insomma, c'era, vabbè, Gagliani, come al solito, molto pacchato, quando si segna il Milan, è veramente una personacina a modo, tranquilla. E poi c'era il simpatico Salvini, eh, Salvini, sei proprio simpatico, sei, è veramente, guarda, insomma, anche a me. Quando ho fatto il gesto dell'ombrello a Ronaldo, ma ho fatto su un casino, adesso voglio vedere con te, voglio vedere. Simpaticissimo. Vi aspetto al derby di ritorno, cioè di ritorno, di andata dell'anno prossimo, insomma. Insomma, quando giocheremo noi in casa, ecco, ci saremmo io e Tohire, sarà una bella festa, ve lo prometto questo. Detto questo, ragazzi, state tranquilli, ve lo dice il presidente Massimo Moratti, risorgeremo sicuramente. Sicuramente. E a partire già da domani col Chievo. Come potete vedere, ormai c'è il mister Oronzo Canà, che dà praticamente i consigli a Roberto Mancini, quindi stiamo in una botte di ferro, ecco. Detto questo, vi rinnovo il saluto dal vostro ex presidente onorario. E vi dico anche che entreremo in Champions League. E questo ve lo dice il chiaro e vecchio presidente Massimo Moratti. Grazie, grazie. E forza Inter. Mi raccomando, intertv.it è la pagina Facebook. Inter TV ufficiale è il canale YouTube. Iscrivetevi in massa, ragazzi. Mi raccomando, forza Inter e forza Tohire e forza Mancini. Ciao.